Musica Ciao ragazzi, in questo nuovo video, io sono Giorgia e oggi vi farò vedere come mettere il nostro logo come sto facendo io, vedete, il nostro logo sui video allora praticamente, ve la faccio breve, vi serve Mobizen, andiamo su Mobizen vabbè ci siamo già su Mobizen comunque dobbiamo andare qua sopra e dobbiamo andare opzione air circle e vabbè, qua possiamo metterci l'immagine che vogliamo, vedete insomma l'immagine che vogliamo e qua possiamo anche scegliere la dimensione, però io sinceramente preferisco così che sembra più nella norma diciamo ragazzi e allora questo è un tutorial su come mettere il proprio logo del del canale nei propri video e niente ragazzi noi ci rivediamo al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti